Paura in quota ma fortunatamente pochi danni. Stanotte infatti si è sviluppato un incendio all'interno dell'albergo di Campo Imperatore a prendere fuoco la frigitrice della cucina. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse altrove e dunque la conta dei danni alla fine è stata molto limitata, ma il fumo notevole ha provocato la paura degli ospiti della struttura, oltre 100, tra questi anche tanti bambini, che sono subito scappati fuori e poi fatti scendere alla villetta con la funivia, che ha predisposto corse notturne ad hoc, rese possibili grazie all'impianto di illuminazione del tracciato. Gli ospiti, pochissimi hanno deciso in realtà di lasciare il Gran Sasso, sono stati sistemati nei due alberghi della villetta, il Fior di Gigli e l'Hotel Cristallo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Assergi diretti dal maresciallo Liaci, il tenente colonnello Andrea Ronchei e anche due pattuglie della Polizia di Stato. Sono arrivate anche tre ambulanze del 118, che non sono state però necessarie, in quanto tra i presenti nessun ferito e nessun intossicato. Da una prima ricognizione sembrava più ingente l'entità dei danni, ma in realtà chi di dovere ha verificato che l'unico locale con danni è quello della cucina. L'albergo di Campo Imperatore da poco è gestito dalla società Medici SRLS.